Sulla gara di oggi, a prescindere dal risultato e dal divario tecnico, ci è stato tra le due squadre. Però quello che si è visto è la maggiore cattiveria con cui Napoli oggi è sceso in campo, a difenza di quando è recaduto in Champions e nelle prime gare di campionato. Sì, è detto bene. Sicuramente siamo entrati in campo con un altro spirito rispetto alle ultime partite. E questo è stato bravo il mister perché ci ha trasmesso la cattiveria e la determinazione che serve per affrontare ogni partita. E quindi, secondo me, più che a livello del gioco, perché il gioco bene o male oramai fa parte del nostro DNA, lo spettacolo e il gioco così, però questa squadra deve sicuramente tirar fuori ogni partita, la cattiveria e la voglia di vincere a tutti i costi ogni partita. Questa vittoria è una risposta all'Inter, la Juventus, già terzo in volata, Napoli-Inter-Juven, non ci sono altre squadre? Io credo che ancora sia presto perché il campionato è iniziato ora e quindi sicuramente queste tre squadre sono sulla carta le favorite. Magari ci posso mettere anche la Roma, anche il Milan. Però diciamo che sarà un campionato molto equilibrato, credo, quest'anno. E penso che dobbiamo sbagliare il meno possibile. Prima dicevi, insomma, era importante ripartire dopo questo mezzo passo falso, questa sconfitta, che è arrivata dopo tantissime gare positive che avete raggiunto anche dello scorso anno. Adesso si va avanti, una settimana con due trasferte, forse con altro step per verificare le vostre potenzialità su tutti i fronti. Sì, sì, mercoledì si alza il livello sicuramente con la Lazio fuori casa. Sarà una partita difficile. Loro sono una squadra forte e quindi sarà bello subito vedere a che punto siamo, no? Noi andremo là per vincere perché una squadra che vuole vincere il campionato deve pensare così. E quindi dobbiamo partire forte, con la mentalità giusta e vediamo. Ecco, dopo la partita di Champions c'è stata un po' di polemica, non ci si aspettava e con risultato negativo si è ripartiti subito, sempre con l'intento però di poter continuare ovviamente a centrare quello che è il discorso qualificazione Champions. Sì, diciamo che abbiamo perso una partita che forse sulla carta nessuno pensava, no? Però io credo che forse la sconfitta ci può aver fatto anche bene perché il trend che la squadra aveva preso anche prima con l'Atalanta, con il Bologna stesso così, diciamo che non era positivissimo a prescindere dal risultato finale. E quindi è stata forse una sconfitta che ci può essere servita questa. Nelle prossime partite ti aspetti di giocare qualche minuto in più? Ma io lavoro sempre tutta la settimana per giocare, poi dopo il mister fa le scelte. Noi dobbiamo accettarle e niente, sono contento oggi che mi ha dato la possibilità di giocare di più. Vediamo, lavoriamo sodo tutti e 23 per mettere in difficoltà il mister. Se sono rimasto è perché volevo rimanere. Quello che mi aspetto è... Niente, io lavoro per giocare il più possibile, per essere anche protagonista. Io sono convinto che quest'anno ci sarà spazio per tutti, che le partite sono tante e quindi dobbiamo solo aspettare, avere pazienza e quando il mister ti dà l'opportunità di giocare, di sfruttarla. Grazie.